Siamo arrivati a Pascano, in Pascano, in Pascano, in Pascano. Ok, qui? Dai, così? Dai, stai. Dai, stai. No, come vuoi fare? Ok. Sì, l'abbiamo. Sì, l'abbiamo. Non ciò che vuoi fare? Non ciò che vuoi fare. No, non ciò che vuoi fare. È il trento. È ilries professor, ciò che vuole? Così, il host zurück, ciò che vuole. Esatto, quello. È un grandeículo. Voglio preparare a fare un siz�. No. Fermi vorne glow. Allora molto sì. Questo è molto l retractante. Grazie.